Musica Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina oggi una ricetta veloce, facile e buona in questa bella padella cecotec, favolosa ho messo aglio, olio e prezzemolo ho tagliato due patate metterò i funghi misto funghi e la carne macinata l'ho condita con aglio prezzemolo, sale un po' di farina e il formaggio grattugiato andrò a fare le polpette con funghi e patate in padella dopo che l'aglio si è rosolato un pochino ho aggiunto le patate subito dopo ho aggiunto i funghi e nel frattempo che si sciolgono si scioglie il ghiaccio dei funghi prepariamo le polpette in questa ciotolina ho messo un po' di farina e adesso faccio la polpetta la infarino e la metto sul piatto così quando saranno pronti i funghi e le patate ce li butterò dentro ho aggiunto due bei bicchieri di acqua e adesso nel frattempo che esce a bollore lo vado a salare adesso che bolle posso mettere le polpette si le ho infarinate perché dopo il sughino deve risultare come una cremina facile e semplice nella carne macinata ho dimenticato di dire che ho messo anche un uovo e voilà adesso metto il coperchio e faccio cucinare faccio rapprendere prima le polpette e dopo le posso girare con il cucchiaio come potete vedere le polpette non si rompono una volta rapprese adesso metto il coperchio abbasso la fiamma e faccio cucinare praticamente il liquido deve dimezzarsi ed ecco il piatto finito se ti è piaciuta questa ricetta supportami con tantissimi like iscriviti al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo in una prossima ricettina ciao 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 Grazie a tutti.